Tra scorse le feste pasquali, il Campobasso è tornato a sudare in vista delle ultime tre fatiche di campionato nell'ordine re canatese, agnonese e pesaro a Selvapiana per chiudere i giochi. La squadra ha raggiunto l'obiettivo della salvezza attraverso il lavoro encomiabile del nuovo tecnico Massimo Silva la cui gestione ha prodotto ben 18 punti e il lavoro anche dei giocatori rosso-blu i quali, benché non sovvenzionati con la dovuta puntualità, hanno sempre profuso il massimo impegno sul terreno di gioco. A tal proposito si parlava di un possibile saldo del quarto rimborso stagionale prima del rompete le righe per Pasqua, cosa che però non è avvenuta. Abbiamo sempre parlato di una partita più rilevante in questo momento della stagione cioè quella societaria che sembra vivere una fase stagnante e non si registrano novità su quest'ultimo fronte né di ingressi né di vendita di società e venienza questa che i dirigenti sembra non abbiano proprio preso in considerazione. Il campo basso non va ceduto, almeno questo lasciano intendere dal quartier generale di Selvapiana. Altrettanto lecito però che il tifoso rosso-blu si interroghi su cosa ne potrà essere della squadra rosso-blu a bocce ferme, cioè tra meno di un mese. Ai posteri l'ardua sentenza. Sul campo i rosso-blu attendono la recanatese di mister Antonio Soda tecnico che, a differenza del prossimo collega Silva, non ha fatto bene alla guida dei Leopardiani per una serie di motivi. Soda è stato capace di raggranellare solo 11 punti in 13 partite da tecnico della recanatese. Per i marchigiani la partita di domenica a Selvapiana avrà un valore incredibile. In programma ci sarà pure Castelfidardo Civitanovese con pronostico che dice nettamente Castelfidardo. Quest'ultima squadra scavalcherebbe la recanatese se questa non dovesse espugnare Selvapiana. Dunque perdere o quantomeno non vincere domenica per la squadra di Soda potrebbe significare retrocessione diretta con due giornate ancora da disputare. E' più importante di così. Sarà anche un confronto tra due allenatori Silva e Soda che si sono accomodati su panchine di categorie molto più insigni. Silva è stato all'Ascoli nella massima serie nel 2006. Soda fu così bravo da riportare lo Spezia in Serie B dopo ben 55 anni di assenza. Tra i cadetti lo stesso tecnico originario di Cutro guidò alla finale playoff il Benevento poi sconfitto nella doppia partita dal crotone di Moriero nel 2009. Insomma Soda è precipitato in quarta serie dove cerca con grandi dignità di strappare alla retrocessione una recanatese autrice per ora di un campionato di bassissimo livello. I leopardiani chiedono al Campobasso l'ossigeno necessario per rimanere vivi in Serie D. Qualcuno vocifera anche di una possibile panchina per Degano ormai giocatore sulla via del tramonto. Per ora sono solo delle voci e presto per dirlo. Certo è che la squadra di Recanati dovrà avere nelle proprie fila domenica prossima solo giocatori assolutamente motivati. Di mezzo ci sarà un lupo non proprio in vena di fare regali.